Signori benvenuti in una nuova puntata della Project Architect Allora raga, nella scorsa puntata abbiamo iniziato a costruire la nostra nuova dimora che è un po' spoglia Perché piano piano dobbiamo cercare di migliorarla Io ho fatto un tettuccio, ho fatto un unico piano che si sviluppa sotto nella cantina Dove poi andremo a fare tante cose Per il momento lasciamo le cose come sono Perché anche... No! Maledetto! No! Maledetto! Porca puttana! Allora, no, volevo fare questo, toglierlo e mettere il... Non il Bigfoot Mettiamo... No, non il Dragon Breath Dove, 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 dove Launch bag, ok, così almeno Abbiamo la possibilità di beccare magari tipo una parte di saturazione così a caso, a culo Allora raga, nella scorsa puntata come vi dicevo Ho costruito questa piccola dimora che, diciamo, ci assicura comunque un tetto E io off camera ovviamente ho finito di fare la, diciamo la, come si chiama, la struttura, no? Quindi il tetto, le mura, eccetera, eccetera Poi piano piano raga la cambierò, la migliorerò, metterò più particolari, eccetera Ovviamente sono tutte cose che comunque richiedono del tempo E quindi non è, non ha senso che tipo facciamo una puntata ogni volta costruiamo qualcosa Io vi dico, vada, mettiamo quel blog No, cioè, non ha, non ha alcun senso Quindi siccome noi non abbiamo comunque di che seguire questo, cose del genere Oggi andremo a fare per l'appunto la nostra bellissima Tinker La Tinker Construct Che comunque ci dà la possibilità di ottenere strumenti veramente potenti Anche se io in realtà volevo fare anche le armature della Tinker Penso che ci siano da qualche parte, credo Sì, c'è la versione della Tinker relativa alle armature Quindi oltre alle armi possiamo fare le armature Quindi prima di tutto andiamo a prenderci un bel po' di legna Quindi in questo caso abbiamo la spruce da portata di mano Non trasformiamo la tuta in planks Ma ovviamente una parte andremo a tenerla Facciamo così, facciamo infine così Prendiamo un pattern e lo facciamo imparare alla nostra Transmutation Tablet Anche perché così almeno non avremo, diciamo, paura di perdere comunque i pattern Allora, prima di tutto così si fa niente Così Così si fa la Tinker Station Poi abbiamo questo più questo Abbiamo la Crafting Station Poi abbiamo questo più questo Abbiamo il Part Builder Poi abbiamo la Chest C'era la Part Chest E la Pattern Chest Che si fa con gli Stick e le Planks Quindi Part Chest Poi c'era la Pattern forse Qualcosa del genere La Tinker Chest Che non so che cosa serve Vabbè Per il momento abbiamo le cose che comunque ci servono Ci aiutano nel nostro Let's Play della Tinker Quindi Vabbè per il momento la piazzerei sopra Oppure magari tipo la Transmutation Tablet Table La portiamo sempre con noi Tra l'altro andiamo a verificare insieme Cosa vuole la Transmutation Tablet Che è quella portatile Vuole essenzialmente La Dark Matter Block Che si fanno da Dark Matter Che si fanno dal Eternalist Fuel Più la Clay La Clay Matter Ah ok Più il Block of Diamond L'Eternalist Fuel Vuole comunque la Philosopher's Stone Che vuole un paio di cose Che ancora non abbiamo a portata di End Quindi dobbiamo cercare di fare il tutto Nel più breve tempo possibile Allora alla cantina abbiamo accesso Sia da qua che da qua Quindi in ogni caso possiamo accedervi tranquillamente In due modi diversi Allora abbiamo Part Build Crafting Station Tinker Station Part Chest E infine i Pattern Che vanno qui dentro Ora essenzialmente noi possiamo fare gli strumenti di pietra Ma noi ovviamente Siccome abbiamo la Transmutation Table Ce ne freghiamo altamente le palle Perché comunque possiamo fare il Growth Possiamo fare il Sare di Brick E possiamo fare infine Diciamo la formace della Tinker Quindi senza nessun tipo di problema Anche perché abbiamo la Clay qua E abbiamo anche la Gravel in questa posizione qua Quindi tranquillamente possiamo andare a casa adesso Ah dovrei mettere un Waypoint qui E scriviamo Casa Così almeno possiamo tranquillamente Teletrasportarci Senza nessun tipo di problema Perfetto Allora dormiamo Perché è notte No? Non è notte Va bene Non è notte Non ci posso fare niente Allora Allora Piazziamo questo Gli facciamo imparare la Clay Che era già imparata La Gravel non credo Invece era imparata anche la Gravel Quindi ci serve la Sand E un po' di Gravella Quindi facciamo così Così Infine possiamo craftare il nostro primo pezzo di Growth Quindi Clay Block Bloc Facciamo così E facciamo così E otteniamo 8 pezzi di Growth Andiamo a smeltarlo immediatamente Magari lo facciamo imparare perché non si sa mai Thank you so much Fine dopo aver ottenuto un pezzo di serie di Brick Andiamo immediatamente a moltiplicarlo Perfetto Quindi facciamo così Senza nessun timore Allora 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 Quindi facciamoci un paio di serie di Brick Lì Allora andiamo a farne un altro po' Lì moltiplichiamo Lì facciamo imparare Perché comunque ci possono servire Poi Abbiamo detto Ci serve Il Iater All'inizio Poi se non sbaglio Il Melter Quindi andiamo a vedere il Melter Come si faceva Il Melter è questo Voleva del Del Votro Quindi andiamo subito A prendere del vetro Glass Thank you so much E andiamo a fare il nostro carissimo Melter Thank you so much Thank you so much Perfetto Allora Abbiamo l'Iater Abbiamo Che non è la gemma dell'infinito Abbiamo anche il Melter Facciamo uno Due Tre Abbiamo il Serred Fawcett Che facciamo imparare immediatamente Facciamo imparare tutto Ragazzi Tutto 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 Quanto Oltre a questo Ragazzotti Facciamo imparare Il Casting Basing E il Casting Table Li ho nominati inversamente Però Ovviamente Non è che Sia un problema Serred Casting Table Prendiamo Il Litter Lo buttiamo Qui dentro Lo facciamo imparare Ne prendiamo Un altro Perché Qui dentro Va Litter E poi ci serve Del Copper Che non so se io ho trovato Ok Non abbiamo mai trovato Il Copper Dato che Comunque Noi Allora Facciamo così Facciamo Togliamo questo E mettiamo Dragon Breath Dato che noi Comunque Non abbiamo bisogno Del Lore Perché non è Trasmutabile Ma abbiamo bisogno Del Del come si chiama Del appunto Del Dell'ingotto Adesso andiamo A farci una sessione Di miniera Rapida Per poter Cercare di ottenere Un po' di Lingotini Tipo Questa zona Mi sa che Molto 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 Fruttuosa Anche perché Abbiamo già Del Copper Quindi in questo modo Possiamo ottenere Del Copper Direttamente Piuttosto Che Per l'appunto Il Lore In sé Thank you So much Quindi Evitiamo Di prenderne Troppo Tanto Non ci serve A niente Qua abbiamo Del Nickel Idem Con patate Prendiamo Pure Il lingotto Di Nickel Qua abbiamo Rookroot Non so se Tipo smeltandolo Potrebbe essere Un problema No Non direi Niente Mori 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 Perfetto Dov'è lo scheletro Sei un po' deficiente Però Non è Non è Essenzialmente Colpa tua E smeltando Il coal Teniamo La Grafite Lo sapevo Cioè Lo sapevo Benissimo Solo che Ovviamente L'ho fatto Perché Così almeno Abbiamo ottenuto Di già Il L'ingotto Di Grafite Mori Zombie Mori Zombie Mori Zombie Mori Zombie Mori Zombie Mori Zombie Mangiamo Mangiamo Non ho delle torce Grave Dust Ok Questa è la Moonstone Non so se Tipo smeltandola Non credo Che otteniamo qualcosa Smentandola Quindi andiamo subito A cuocere il tutto Cioè A ottenere il tutto Qua abbiamo Dell'ottimo Tin Thank you so much Quindi prendiamo Tutti i ringotti Possibili Immaginari Qua c'è sempre Del Coal Coal Ferro Ferrone Ferrozzo Ferrone Bim Perfetto Vediamo se da questa parte C'è qualcosa di interessante Vorrei tipo Del lead O comunque Altri materiali Particolari Però Evidentemente Non siamo così Fortunelli Fortunosi Per poterli Ottenere Qua abbiamo sempre La Moonstone Enderman Non ti sto guardando Porca puttana Mi è venuto Un infarto Che cazzo È sta cosa Minca Mi è venuto Un infarto Cazzarola Ok raga Abbiamo anche Lidl Silver Per fortuna Cioè Stavo cercando Giusto l'oro Per poter Ottenere Comunque Gli altri due Materiali Che mi mancavano C'ho Un po' di roba Inutile Nell'inventario Devo dire la verità Che be Che figata Cazzo Ragà Qua mi viene Proprio voglia Di costruire Mamma mia C'è proprio Bello Guarda 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 C'è una Figata C'è una figata No Vabbè Ragà Qua è una figata A costruirci Come questo C'è un villaggio Poi tra l'altro C'è bellissimo Qua Ci potrei Costruire Qualcosa C'è molto C'è molto 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 Interessante Questa zona Intanto ci attaccano Noi ce ne freghiamo altamente Le palle Vorrei trovare Dell'oro Sarebbe L'ultimo Materiale Che comunque Ci manca Questo cos'è Uranio Che Uranio Non mi interessa Perché è impoverito Intanto c'è uno Scheletro Che ci attacca Però noi ce ne freghiamo Altamente le palle Fino a che Non finiamo Nella lava Oppure nel fuoco Dell'inferno Perché c'è questo Cioè Manco ci fosse La nether Questa è Sinabar Qua c'è Una colonna Di Dei Bricchettini Per quale motivo C'è una colonna Di brick It's very Strange Oh Finalmente Il gold Il goldone Magico Allora Butterei Della rotta In flash Ok Così Abbiamo Abbiamo Almeno Almeno Abbiamo Tutto Sì Vorrei Tipo Usare il vetro Per raggiungere Quella superficie E vedere Che cazzo C'è qui sopra Perché Secondo me È un dungeon Raga E sarebbe Comunque Interessante Poterlo Sentro già Degli scheletri Ecco Guarda Guarda C'è veramente Porca Perfetto Abbiamo Ottenuto Il loot Di Di Questa Di questa Zona Vediamo Cosa c'è Di bello Allora Purtroppo Non ho La Come si Chiamano Però Vabbè Serebrick Non è che Costino Così Tanto Quindi Prenderei La Name tag Assolutamente L'Iron Ors Amor Giusto per Avere un po' Più di Smite Massimo 11 Cosa Ma un tantino Un po' Troppo Diciamo Sgravo La cosa Qua Vabbè Schifo Qua Schifo Mana Gem Si Lo Prendiamo Più Queste Due Cose Wixie Shard Carbancol Shard Ok Per il Resto Abbastanza Inutile Come Come Dungeon Credo No Che Non Continui Non Prosegui La Via Prosegue No Sembrerebbe Di No Vabbè Raga Torniamo A Casotta Che Sta Che Sta Che Sta Che Sta Qui Casa 651 Metri Ok Quindi Dov'è La nostra Transmutation Tablet Dobbiamo Buttare Proprio Come se Non ci fossero Domani Tutti I Materiali Che Abbiamo Ottenuto In questo Frangente Tipo Tutte Queste Cose L'uraninite Non ha Un valore DMC Sono Molto Triste Per Questa Scoperta Comunque Prendiamo Del Copper Del Coal Facciamo Facciamo Pure Così Lui Vuole Quattro Lingotti Se Non Erro Quindi Tutto Questo Copper Un Po Esagerato Diciamo Chiudiamo Pure La Porta Andiamo Pure A buttare L'ultimo Lingotto Di Copper Di Copperone Copperone Copper One Andiamo A ottenere Quattro Lingotti E infine Per l'appunto A ottenere Un ottimo Smeltering Controller Block Thank you So Much Perfetto Ora Ragazzi Serve Una Bella Tank Perché Comunque Ci serve Andare A Prendere Del 64 Bucket Un Cask Ah Effettivamente Non ho Ucciso Aspetta A meno Che Non Ce L'ho Le No Non Ho Ucciso Delle Mucche Non Ho Mai Ucciso Delle Mucche Ma Se non erro Qua vicino Dovrebbe Eserci Comunque Delle Plains Dove Poter Trovare Delle Ottime Mauke Mau Mau Vediamo Se riusciamo A trovarle Ok Raga In realtà Non c'erano Mucche Dove Siamo Andati Noi Quindi Direi Di Ignorare Il Tutto E Provare A Teletrasportarci In un Posto Dove Secondo Me Comunque Ci Siano Le Mucche Allora Vediamo Qua c'erano Le Plains Vero Ok Trasportiamoci Qua Qua dovrebbero Eserci No Qua non ce ne sono Mucche Qua siamo Troppo in alto Per esserci Delle Mucche Le Mucche Dovrebbero Essere Ok Qua in Questa Zona Vediamo Allora Abbiamo Dei Porci Li Porci Possiamo Ucciderli Comunque Per ottenere La Loro Carne E Metterla Nella Vabbè Posso Fare Così A Posto C'erano Troppi Zombie Cuccioli Per i miei Gusti Quindi Meglio Evitare Meglio Evitare Allora Muccozze Muccozze Qua vicino Ci sono Delle Peccole E anche Delle Galline Quindi Vorrei Tranquillo Ok Vabbè Ignoriamo Questo Che cazzo È Se Mi ha Spinto Addosso Dai Ma Sei Uno Stronzo Che Cazzo È Che Mi ha Spinto Addosso A Quel Coso Dov'è Che Sono Morto Scusa Allora Io Mi sono Teletrasportato Qua Vicino Poi Ho Cambiato Completamente Zona Ok 47 Perfetto Ti Levi Mamma Mia Allora Si Dai Levate Levate Ok Quindi Ci sono Delle Pecore Possiamo Recuperare La Lana Perché Comunque Era una Cosa Che Mi Mancava E Poi Andiamo A Recuperare Anche La Pelle Forse Dei Cavalli Perfetto La Lana L'abbiamo Beccata Ora Mi serve Della Pelle Della Pelle A Pelle Figlio Da Pollo Fece Una Palla Di Pelle Di Pollo Allora Voi Levatevi Dal Cazzo Perché Veramente Non Ho la Pazienza Per Sopportarvi Un'altra Volta Più Che Altro Perché Non Valete Un Cazzo Quindi Non Ha Senso Che Mi Fate Perdere Del Tempo Dov'è Il Mio Salmone Qua Abbiamo Reward Tom Sto Solvando Questo Avevamo Già Levati Alle Palle Grazie Infine Abbiamo I Cavallozzi Ok La Pelle L'abbiamo Tenuta Possiamo Anche Andare A Casotta Che Dovrebbe Essere Qui Perfetto So Good Abbiamo Tenuto La Pella Abbiamo Tenuto La Lana Abbiamo Tenuto Un Sacco Di Cose Molto Utili Quindi Andiamo A Dormi Perfetto 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 Infine Andiamo A buttare Tutte Le cose Che Ah Lo Smelly Controller Non Ha Un Valore Di MC E Io Ho Buttato Infinity Come Un Deficiente Dentro La La Coso E Vabbè Facciamo Così Questo Lo buttiamo Qui Dentro Facciamo Salmon Ok Perfetto Poi Leta A noi ci serviva Questa Tank Quindi ci serve Il casco E Il barrel Quindi Planks Slab String Poi Che Cazzo Che Mi Serviva Il Ferro Cioè Il vetro Scusate Non Il ferro Glass Allora Dovremmo Poter Fare Qualsiasi Cosa Quindi Prima di tutto Il barrel Ok Poi E lo facciamo Imparare Perché Comunque Bellino E lo Possiamo Riutilizzare Poi Infine Il Per Che Scusa Non me lo vede Somma Strano Scusa Perché Non me lo vedi Scusa Oh A meno Che Aspetta No No Voglio Quello Di Minecraft Probabilmente Non vedeva Ok Non vedeva Il crafting Di Quello Di Minecraft Perché Cioè Voleva Quello Di Minecraft Quindi Facciamo Così E Infine Possiamo Fare Con Del Ferro Irons Perfetto Prendiamo Anche Altri Tre Lingotti Di Ferro Perché Così Possiamo Fare Anche Un Secchiellozzo Thank you So much Possiamo Fare Una Tank Da 64 Bucket Quindi Adesso Andiamo E ci Recuperiamo Un bel Po Di Lavola A più Tardi Ok Raga Ho Suuottato Praticamente Questa Zona Ora Possiamo Prendere Questo Senza Che Si Ok Senza Che Perla Comunque I Liquid All'interno Possiamo Andare A casa Thank you So much E andare A fare Tutte le cose Nella Tinker Relative Comunque Alla Smeltery C'è Il Bucket C'è Il Bucket Di Lava Come Diciamo Trasmutabile E Sare 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 Curioso Di Sapere Bucket Allora Posiamo Scriverlo Qua Bucket 7 68 832 C'è Quindi 1000 Millibucket Di Lava Valgono Meno Di 100 MC IMC Buono 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 Allora Prendiamo Del glass Served Brick E Andiamo A fare La Tenchina Della Tinker Perfetto Ah So Good Oltre a Questo Ci servono I Bricchettini Quindi Facciamo Un Paio Di Bricchettini Grazie Infine Mi serve Il Drain Che Però Non Ho Fatto Quindi Copper 1 2 Lingotti Di Copper Così Alla Grande Quindi Facciamo Così Così E' Perfetto Abbiamo Anche Il Drain Quindi Questi Magari Li buttiamo Qua Perché Tanto Non ci Servono Più Abbiamo Casting Table Casting Basing Infine Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve Mi serve I Fawcett Vabbè Questo Alla fine Non mi serve Più Perché Tanto Ormai Il Suo Scopo L'ha Fatto Cioè Semplicemente Serviva Per Ottenere Controlle Quindi Il Melt Lo buttiamo L'iter Corail Stone Perché Sono Morto Più Di Una Volta Ok Ciccia Ok Prendiamo Questo Prendiamo Anche Questa Ci Portiamo Sempre Appresso Qua Devo Mettere Le pressure Plate Assolutamente Assolutamente Allora Io vorrei Scendere Non è Molto Difficile Farlo Infine Qui Andiamo A Piazzarci La Nostra Bellissima Smenteri Che Ovviamente Sarà Proprio A Muro Quindi Facciamo Così Qua Togliamo Mettiamo Giusto Una Torcia Per Impedire La Spawning Dei Mob 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Qua Togliamo 1 2 3 Perfetto Poi Facciamo Così Facciamo Cosà Tra la Lero Tra la Lero La Quindi Togliamo Il Deep Slate Che Abbiamo Lasciato Qui Sotto Thank You Very Much Via 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 Perfetto Facciamo Di Lo strato Dei Seri Debriche Qui Poi Mettiamo Il Controller Lo possiamo Mettere Tranquillamente Qua La Tank Qui Questa Tank Qui Infine Seri Debriche Seri Debriche Seri Debriche E Lo Seri Il Drain Messo Qui Poi Fawcett Di Drain Raga Ne Possiamo Mettere Quanti Ne Vogliamo Per Ora Ne Metteremo Uno Tanto Non è Che Ce Ne Servano Chissà Quanti Soprattutto All'inizio Quindi Facciamo Così Perfetto Lui Dovrebbe Essere Pieno Prima Vedere Se C'è La Pipets Si C'è La Pipets Perfetto Quindi Possiamo Tranquillamente Andare A Craftare Tutte Le cose Quindi Crafting Table Mettiamo Qua Poi Facciamo Iron Mettiamo Uno stack Di Iron Questo Magari Lo Mettiamo Così Così E così Poi Andremo A Metterci Comunque Dei Fawcett E Dei Drain Quindi Questi Li Togliamo Perché Tanto Non ci Servono Più Infine Mi Serve Uno Due Tre Il Bucket E Non mi ricordo Fluid Pipe Cosa Volevano Della Innanzitutto Un altro Bucket E Della Redstone Andiamo Immediatamente A fare Dei Fluid Pipe Li Facciamo Imparare Buttiamo Pure Tutto Quello Che Non Ci Serve E Facciamo Pipe No Mi Serve La Pipe French Ora Non So Se E Stick Uno E Due Ragazzi Mi Rendo Conto Che Comunque In Questo Modo Noi Stiamo Praticamente Sfruttando La Progete Per Qualsiasi Cosa Però Ragazzi Ci Sta Dopo Aver Avuto Modpack Comunque Un Po Complicati E Ora Di Fare Un Modpack Molto Più Tranquillo Allora Prima Di Tutto Ci Serve Fare Il L'anvil Della Tinker Quindi Facciamo Tinkers Tinkers Bronze Perché Se non Sbaglio Il Tinker Bronze È Uno Dei Materiali Che Ci Serve Per Poter Fare La L'anvil Quindi Per Fare Questo Abbiamo Bisogno Di Glass E Copper Quindi Un Blocco Di Glass E Tre Lingotti Di Copper Mi Danno Tre Lingotti Di Tinker Bronze Quindi Vuol dire Che A noi Servendo Ne 27 Dobbiamo Mettere 27 Lingotti Di Copper E 9 Blocchi Di Glass Quindi Copper Facciamo Per L'appunto 27 E Infine Glass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perfetto Andiamo A buttare Pure Tutto Il Vettro Ah Ci Sta Tutto Ma Alla Grande Ma Alla Grande Proprio Alla Grande Questo È Un Reward Ti Da Toaston Curse Of Bone Pensavo Mi Desse Qualcos'altro Ma Non Curse Of Bones Ok Abbiamo Tre Blocchi Di Tinker Bronze Quindi Facciamo Così Mettiamo Il Casting Basing E Gli Facciamo Fare Questa Cosa Qua Oltre A Ora Come Togliamo Questa Cosa Qua Gli Facciamo Imparare Il Ser Drain Spendiamo Anche Altre Due Faucet Così In questo Modo Possiamo Tranquillamente No Andare A Metterle Così Perfetto Se almeno Facciamo Così No Toglilo Uno E Due Very Good Ora Qua Buttiamo Ovviamente No Serra De Bricchi In realtà Mi Servono Quindi Uno E Due Perfetto Prendiamo Anche Il Quarto Che Sta Qua Aspettiamo Ovviamente Che Mi Faccia Il Tinker Bronze Thank You E Abbiamo Finalmente L'Anvil Della Tinkers E lo Mettiamo Qua Ora L'Anvil Della Tinker Raga Ci serve Essenzialmente Per fare Per l'appunto Le armi Quelle Più Cicciotte Allora Se non Sbaglio Questo Open Planner Ci permette Di Pianificare I nostri Strumenti Per esempio Io voglio Fare La Clever Ora Clicco Qua E qua Mi da Tutti i Materiali Quindi Per esempio La voglio Di Bloodbone Rod Broadblade Poi Qui Mettiamo Pig Iron Qua Mettiamo Slime Steel Qua mettiamo Flint Qua Mi da Tutte Le caratteristiche Della Nostra Della Nostra Arma Se non Erro Se non Erro Qua ci dovrebbe Dire Praticamente Due Avable Upgrade Slot Zero Defense Slot Un Avable Ability Slot E questo Non so Cosa Voglio Dire E qua Tutte Le Tra L'altro Andando Qui Ci fa Vedere Le Caratteristiche Finali Della Nostra Spada Quindi Bloodbone Pig Iron Clever Durabilità 1300 Fa 10 Di Danno Ha Una Velocità D'attacco Di 0.88 E Cetera Quindi C'è Un Ottimo Metodo Per Scoprire Che Cosa Possiamo Utilizzare Per Creare Una Spada Una Delle Spade Migliori Del Gioco Ovviamente La migliore Delle Cosa Sarebbe Magnulin Perché Il Magnulin Dovrebbe Fare Più Danno Per Esempio Possiamo Andare A Verificarlo Facendo La Tutta Di Magnulin Dovrebbe Fare 14 Di Danno Però Noi Siccome Siamo Comunque Dei Poveri Dovrebbe Eserci La Possibilità Di Farla Di 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 Ossidiana E C'ha Comunque 3080 Di Durabilità Quindi Sarebbe Un'ottima Cosa Proviamo A vedere Se È Possibile Allora Iron No Iron To Gandalf No Vediamo Se C'è Qualcosa Di Interessante Proviamo A farla Proprio Tutta Di Ossidiana 1000 Di Durabilità 13 Di Attacco Beh Io direi Che Non è Male Come Come Arma Non è Male No Poi Vabbè Abbiamo L'Escavator La Brodex Che Dovrebbe Essere Comunque In grado Di Cioè Di Avere Una Rose Gold Anche Rose Gold Dovrebbe Essere Comunque Un'ottima Un'ottima Scelta Proviamo A vedere Rose Gold Che Poi Tra l'altro È anche Molto Semplice Da Dovrebbe Essere Toghen Ormai Lo Facciamo Di Ferro Tac Damage 10 Money Speed Iron Upgrade 5 Abilità 1 Interessante Ma Enhanced Ci dà Un upgrade In più Come si fa Il Rose Gold Rose Gold Vediamo Subito Allora Rose Gold Vuole Dell'oro E del Copper Un lingotto D'oro Tre lingotti Di Copper Mi danno Quattro Lingotti Di Rose Gold Ora Facciamoci Un conto Di quanti Materiali Ci servono Allora Per fare Che è Questa Cosa Per Allora Rose Scriviamo Di nuovo Rose Gold Quindi Per fare Questa Spada Abbiamo Bisogno Di Aspetta Ma Non è Che Magari Tipo Questa Risulta Essere Più Più Scarsa 775 E utile Per gli strumenti Ma non è utile Per Ma in realtà Possiamo fare Now Alt Così Vediamo Quante Danne Fa 925 Proviamo A metterci Anche Questo 10 Di danno Non sarebbe Male Avremo 3 Slot Qua Possiamo Mettere Rose Gold 10 75 Con 4 Upgrade Beh Dai Non dovrebbe Essere Male Dai Comunque 735 Di durabilità Attack Speed 1.12 Sarebbe Interessante Sapere Qual è La cosa Che ti rende Gli strumenti Più veloci Raga Crafto Un attimo Un paio Di cose Ok Raga Abbiamo La Rose Rose Gold Broad X Ora Io la Voglio Provare La voglio Provare Su un albero Di questi Perché Sarebbe Curioso Dovrebbe Fare Comunque Molto Male Anche Creeper Ok Mamma mia Benvenuta A Tricapitator Oh Gesù Quanto Quanto È Bella Mamma Mia Raga Ah Questo Però Va solo In Verticale Cioè Gli alberi Magari Due Per Due Non Li Scava Contemporaneamente Però Vabbè Dai Non È Male Non È Male Intanto Frizza Perché Giustamente C'ha Troppi oggetti Per terra E un attimo C'ha un po' Di difficoltà Ok Perfetto Ah Quanto È Bello Raga Cioè Non potete Capire Quanto È Bella Questa Cosa Perché Non c'è La La V Miner Qua E Non c'è Né Tanto Meno La Tricapitator Quindi Per Forza Di Cose Noi Per Andare A Distruggere Che Succede Oddio Va bene Allora Questo Però Ok Lo stesso Uguale Quindi Qua dobbiamo Stare un attimo Attenti A non usarla Magari Tra l'altro Vorrei Sapere una Cosa No Se io Attivassi Il Trinklet Il Trinklet Tipo Dragon's Breath No E la usassi Per distruggere Qua Oh Mio Gesù Cazzarola 24D Va bene Di Charcoal Cioè Proprio Così Però Ovviamente Si distrugge Velocemente Come Come Accesso Come Diciamo Strumento Però Raga Guardate Quanto è Facile Quanto è Facile Buttare Giù Gli Alberi Cioè È Cioè Qualcosa Di Allucinante È Comodissima Ragazzotti È Comodissima Vabbè Disattiviamo pure Il Dragon's Breath E Rimettiamo Il Bigfoot Mamma mia Ancora pieno di legna Qua Tra l'altro Ok Mi sento un attimo Non molto sicuro Nell'utilizzare Quest'arma Perché comunque C'è da dire Che non è Totalmente Sicura Però Si può fare Qualcosa In quanto a Modificatori Per esempio Se noi vogliamo Mettergli Per esempio Luckier Non luckier La redstone Se non sbaglio Era così Che si faceva La velocità In minecraft Infatti Ast Poi Astier Ok Cioè La possiamo rendere Magari tipo Upgrade 4 Ok Quindi Facciamo magari Un altro livello Di Ast E Qual era Il Coso Reinforce Vediamo Iron Reinforce Lime Steel Gold Sered Bla 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 Emerald Bronze Cobalto Vediamo Melee Protection Ok No Non mi interessa Questo Non mi interessa Reinforced 1 E poi Se non sbaglio Unbreakable Eh no Dove Allora Modifiers Dovrebbe esserci Quello Unbreakable Che dovrebbe Darci la possibilità Di renderlo Praticamente Infinito Che però Vuole Ha required Un ability slot Quindi vuole Un ability slot Però Vuole Nederite Level E Reinforced 5 Per essere Applicato Eh Raga Quindi si Reinforced Vediamo Dove Allora Faccio Prima A mettere Reinforced E Vedere Quanti Ne 24 Ah Cazzo Però Questo Me lo ricordo Era Iron Con Obsidian Pain Si E' Un Pain In The Ass Va bene Ragazzi Abbiamo iniziato La Tinker Nelle Prossime Puntate Comunque Faremo Sempre Più Andremo Sempre Più Avanti In Questo Mod Perché Io Spero Che Questo Mod Perché Vi Possa Interessare Anche Perché Era appena Iniziato Raga Abbiamo Una Valanga Di Mod Da Esplorare Tra L'altro Il Nether E Land Non Sono Gli Stessi Vanilla Quindi Sarebbe Curioso Scoprire Che Cosa C'è Nel Land Come Possiamo Vedere Tanto Abbiamo Gli Charm A Quanto Visto Abbiamo Gli Charm Quindi Sarebbe Molto Interessante Andare A Prendere A Fare Quello Di Nederite Se non Sbaglio Se C'è Debrisa Oh Mio Dio Com'è Che Si Faceva Se Non Erro Nederite Vediamo Dovrebbe Esserci Allora Charm Vediamo Jump Boost Bad Luck Blah 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 Charm Absorption No Dovrebbe Esserci Quello Che Ti Fa Vedere I Blocchi Dei No Non È Così No È Vero Ce La Cyclic Non me Nero Accorto C'è Non è che Non me Nero Accorto Non Ho Completamente Dimenticato Va Bene La 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 Puntata Di Oggi Finisce Qui No Ci Vediamo Alla Prossa 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 Prossa